Musica Ripartete avanti con un video però volevo ricordarvi assolutamente di seguirmi su tutti gli altri social Trovate tutti i link in descrizione dalla mia pagina Instagram alla mia pagina Twitter E anche ovviamente girate su Facebook Discord, seguitemi su Twitch, tutto in descrizione ragazzoli Mi raccomando, è importantissimo perché soprattutto Twitch, Instagram e Twitter Sono i main social che utilizzo sempre tutti i giorni e tra l'altro mi raccomando tutto in descrizione Seguitemi Ora Ma la sub è lo skippo Izi 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 Ricordo ragazzi che quando fate la sub, skippate le pubblicità eh Prima ulti, let's go Vai Tuturu, tuturu Immaginate rimborsando tutte le gemme qua, chi ha pullato su A e ui, a e ui Vai, tarmi e il vedi di uscire Grande, tarmi e il vedi di uscire Questore li sbuffa schifo Oh, si good Grande, tarmi e la terza multi Eccolo, ricicino eccolo Non pullo veloce, pullo lento oggi Voglio godere le pullo, visto che sono gemme mie E voglio spendere il meno possibile Quindi trovassi L'unico RPG che mi interesserebbe è stare il verde per maxarlo Ma nemmeno impegni tanto Cioè, ottarmi e non stare il verde, basta Beh, se lo trovo la prima si gode tantissimo Le pullo più veloci di sempre Ma vaffan gala, ho visto le ali Battano la Ma battano la, ho visto le ali Vaffan gala, va Vaffan gala, va Trovremmo tarmi, no Grande coin In che senso che è strani Prossimo pronostico In che senso che è strani i rate Sempre gli stessi Ufff, vuol dire che è cardo Shaft senza santini Guarda bene i rate Ah no, gli arcangeli erano 0 aery Ah, è vero Avevo visto questa cosa su Twitter L'avevo visto Sì, mi bander è un po' strano si cadono 0-3 gli altri arcangeli, lui 0-5 gli altri 0-1-6 l'ho visto, si è vero, non mi sono mai guardato adesso pensavo fosse fake però no, frago, non lo voglio del gioco buono è straight, ma insomma, per chi cerca gli arcangeli, si ma per chi dopo me li ha fullati, anche no non me ne fico un cazzo se tu permetti, eh, porco 2, porco c'hai capito, me fai tanto a Gerardo non scappi cosa? tanto a Gerardo non scappi e quindi dici che mi esce Gerardo, porco 2 porco 2, bella Ulice tanto a lei, se tu ha fatto quello di Siel, tu avremo un cazzo per almeno 200 grand palese, legge del gol grande ticket grande ticket beh, si, comunque è peggiorato il gioco, eh questi caricamenti guarda quanto ci mette guarda quanto ci mette cioè, ma non ci mette così tanto sempre skip rossi e sempre la stessa Elizabeth e let's go guarda quanto a me fumo il gioco adesso 27 banner guarda, sip si, sicuramente lo fixano domani vado a dare una manutenzione, boh no, no, no 6 giga interne del gioco e via vedo ora il caricamento ma a me non ti giuro che quando ho logato per il video easy log, normale scaricato i 6 gigi, 7 giga e 2 e è andato liscio ando scaricando quella che è soltato per una live uguale era la prima come sempre logato normale non mi ha dato nessun problema ciao cosa mi sono perso bella Slenderman mi sono perso una multi con Lusier Lusier speriamo di pullare la prima possibile sto cazzo di Farmiel l'avete votato boys eh? controllo il volo da di qua che è più fluido e più veloce XD bella e ti immagini se mai ne arriva come senza grazia non avrebbe senso non avrebbe senso ora ti reggo un attimo suolo ok via prossimo oh comunque l'ho mutato un cazzo eh Così fai il tipo, mai le dobbiamo fare la grazia per forza, dai, forse si fa il counterino pareggia, impossibile, impossibile, immaginate adesso da quanto è buggato il gioco con scena molti con tipo 8 ssr, se lo immaginate, niente Tarmiel, prossimo pronostico ragazzi, votate, e votate questi punti canale porco 2 porco, anzi lo so che è senza grazia, però sincero non lo vedo molto possibile, cioè non mi piacerebbe, per me mai deve essere cura, grazie, giri, va a dire, è il primo giro questo, ma al massimo arriva a 600, quelle gemme di domenica, poi basta, tanto ragazzi se uscirà slime si scioppa, bello detto, non è che si può aspettare per sempre, il personaggio vale secondo me, ma per ora ho fatto dei multi, una multi nudo sielo e una multi shaft, il resto lo vedremo, speriamo bene, bella farla, comunque buon pomeriggio, bella ciao, buon pomeriggio, ragazzi scusate se mi sentite una voce strana, o comunque bevo ogni 3 secondi, ma perché mi brucia tutto, e ripeto, c'è la roba tutta nuova, spero capiate, sinceramente, bella Fabrix, come stai? votate, 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 no ma non ce la fa a dormire, è una cosa più forte di me, non dormo con la febbre io, non dormo con la febbre ragazzi, sto comunque qua a guardare video, guardare anime, guardare film, guardare a giocare, non ce la fa, cioè mi da proprio fastidio dormire quando la febbre, ma in generale, per me se si dorme di notte, basta, tempo aperto se no, e se sei sub si che ti becchi la precedenza, sia global che jump, ma speriamo, ora parte il santino, finito il pronostico, yes, yes pronostico ragazzi, prossima multi, santino, grande santino, grande santino, grande santino, vaffan gara santino, questo però SSR, qua c'è l'SSR sicuro, poi fa il counter, quando c'è quella combo lì, spandalizzo, c'è l'azzurro, marchio incompleto, schipperoso, fa sicuro il counter, proprio confermato dalla legge, a me non va l'up se ti resta già up, perché? beh ragazzi, ripeto, cioè non va a nessuno, a me va, a me va, normalissima anche, diam verde, dice, let's go boys, tanto ormai ci sono abituati allo shaft, uno più uno meno, come un calcio, oh sempre lì comunque, sì sì l'ho fatto, l'ho fatto carlo, sono negativo, no arriva, ma sicuramente sono negativo, perché due giorni fa ce l'aveva la mia mamma, a 39 per due giorni, e anche lei, due due tre tampone, tre tampone ha fatto della negativa Q2 3, quindi, me l'ha semplicemente attaccata a lei, e abbiamo anche le stesse cose, entrambi, ferma a 39, entrambi tosse, quindi, a lei è bello e passi, no l'ho schippato, non ci credo, l'ho schippato, ho cliccavano, ma porco dove, l'ho schippato, nemmeno il tempo, che tilt, grande tarmiel, grande tarmiel, e ragazzi, essi grande gode, abbiamo ancora 300 pasta gemme da parte, essi gode, grande tarmiel, andiamo, oh comunque lo fa lui a chiamare lì, lui ha un altro tarmiel, ma davanti è figo raga, bellissimo, ma davanti è figo, oh comunque vinci il sì, faremo tarmiel, yes, 280 mila su no, io vorrei capire chi l'ha votato, grande tarmiel, cassa, che culo abbastanza, la quinta multi, qua è vero, ho avuto fortuna, questa schiena è molto gemme, però boh, non lo so se spendere soldi, c'è gemme per quello, 250k sul no, what the fuck Gandalf, ma sei pazzo, brother, impazzito, ma sono bellissimi, quelli con la coda da dici, quelli sono molto belli, ce lo faremo a portarlo al 90, sì, dai, grande tarmiel, fai il cervello con giusto così, fai il cervello, ah con gusto, sai che la sua ralicchia però, quella è una ralicchia forte di quelle che aveva aggiunto ragazzi, la sua o quella del lato tarmiel, tanto la devo fare a tutte, a tutti, sono ben, ma so quanti ralicchie devo fare con il cervello ragazzi, c'è otto ralicchie devo fare, c'è tutti gli arcangeli, compresa margaret, litsgod, kingfest, porco due quanti, quanti? che l'altro è più forte per il team in full counter, ah sì, è vero, quella 30% di più di danni con counter, com'era? no, il tank è 30% di più, com'era? boh, cazzo, dico, boh, non mi ricordo, devo andare a vedere, dai, infatti non me la ricordo mai, no, comunque adesso lo proviamo subito in pvp, eh, ho trovato alla 150esima, sì, quarta, no, ho finito di posto, quant'era, quarta multi, no? quinta multi, sì, dalla 120 alla 150, sì, sì, ho sculato ragazzi, sculato, ma me lo sentivo di sculato, ve l'avevo detto, adesso lo grande proviamo, dov'è? tarmielo, guardate qua, tarmielo, 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 intanto le reliche sono completamente uguali, sì, sì, completamente uguali, esteticamente, aspetta, guarda, c'è il 50, ho preso le due ultime video, finita così in fretta le pull, non me l'aspettavo di sculare, cioè me lo sentivo, ma non pensavo, cioè pensavo fosse il classico coso sentore, ma, subito in pvp, yes, lo andiamo subito a provare ragazzi, ovviamente, tutti uguali, Grazie a tutti.